Oggi riprendiamo l'angolo che stavolta con la prima notizia ci fa capire che ormai si è superato il limite. Che la croce simbolo della cristianità venga cancellata per incrementare ulteriormente gli incassi di un supermercato fa accaponare la pelle. A Camporosso, località a pochi passi dal confine con la Francia, uno strapopolare supermercato modifica su una gigontografia l'apparire del campanile della chiesa di Dolceacqua dedicata a Sant'Antonio Abate. Fotografie che fanno bella mostra all'interno della filiale del colosso tedesco, della grande distribuzione. Parliamo della teutonica Lilde Sifunianco della Holding Schwarz. Non vogliamo intaccare la suscettibilità di chi è di religione diversa, in prevalenza musulmana. Questa è stata la giustificazione dei responsabili del grande magazzino, mentre giustamente il sindaco di Dolceacqua, che tra i suoi concittadini di adozione contano pochi tedeschi, ha preso posizione scrivendo alla direzione del supermercato, facendo sapere che insomma quella foto deve tornare normale, che a quel campanile, che a quella chiesa, che a quella croce ci tengono e non poco. Ma il sindaco ha anche fatto sapere che se tutto non avverrà in tempi stretti passerà la pratica al suo ufficio legale. Ma ironia della sorte, Sant'Antonio Abate, ma chi era Sant'Antonio Abate? Detto anche Sant'Antonio il Grande, Sant'Antonio d'Egitto, Sant'Antonio del Fuoco, Sant'Antonio del Deserto, Sant'Antonio Anacoreta. È stato un Abate ederemite egiziano, sì, ripeto, egiziano, nordafricano. In definitiva compaesano, tanto per rimanere sul popolare, di quelli che la Lilde teme possano arrabbiarsi nel vedere una croce.